ciao a tutti sono le sette del mattino qui a Samanà questa è la vista dalla nostra camera siamo sia club vi resort di Samanà aperto solo un mese fa quindi è nuovissima a destra potete sentire e vedere l'oceano davanti la piscina principale a sinistra in fondo ci sono altre camere e l'area del breakfast della cena potete notare le camere a sinistra in basso hanno tutte una loro piscina davanti sono chiamate vive non potete vedere anche qui sotto piovigina ma speriamo che migliori oggi dovremmo andare a vedere alcuni isolotti qui davanti a Samanà la cascata del limon in a cavallo una cascata spettacolare e un parco naturale presente qui sull'isola a Samanà